La Coldiretti Toscana ha cambiato il suo presidente dopo diversi anni in cui Tullio Marcelli è stato alla guida dell'Associazione dei Coltivatori Diretti, ora tocca al pisano Fabrizio Filippi. Cambio al vertice di Coldiretti Toscana, l'Associazione ha eletto come nuovo presidente Fabrizio Filippi, 54 anni, nato a Livorno, presidente dei Coltivatori Diretti di Pisa dal 2004 e del Consorzio di tutela dell'olio toscano IGP, settore dal quale proviene. Sicuramente è un onore, è un onore presiedere la Coldiretti Toscana, cercheremo in questi prossimi 5 anni di consolidare i risultati che abbiamo ottenuto e perché no di migliorare sempre di più gli interessi dei cittadini e quindi producendo sempre di più un cibo che sia salubre, che faccia della sicurezza alimentare, dell'origine e della tracciabilità uno dei principali pilastri e obiettivi, credo abbiamo fatto bene il nostro dovere. Filippi prende il timone regionale di 40.000 imprese associate, 9 federazioni provinciali, 50 uffici sul territorio, un patronato da 45.000 pratiche annue ed un CAF che assiste 50.000 tra imprese e cittadini. Azzagli il timone l'aretino Tullio Marcelli alla guida della Coldiretti regionale dal 2006. Ma purtroppo stiamo subendo degli anni di clima impazzito in cui la meteorologia purtroppo non ci aiuta sia in termini di siccità sia in termini di innalzamento delle temperature, a volte anche congelate primaverili importanti, quindi credo che il clima sia diventato una delle prime sfide. L'altra sfida da vincere è quella della burocrazia, cercare di alleggerire il peso che grava sulla testa degli agricoltori toscani. E' tempo di bilanci per l'Internet Festival di...